Oggi vi presento l'albo illustrato Casimiro e la cacca della mucca di Sebastiano Zanetello per Ape Junior. Una piccola storia in rima che racconta la bellezza del mondo dove le cose esistono solo insieme a tutto il resto. In effetti, in fondo, una storia tutt'altro che piccola. Questa storia è stata scritta e illustrata da Sebastiano Zanetello che vive a Vicenza dove fa l'architetto e ha insegnato disegno e storie dell'arte. Da architetto ha sempre amato smontare e rimontare le parole come i mattoncini di un gioco di costruzioni. Da insegnante ha imparato a usarle, ad usarle e a usarle per sorprendere e divertire i suoi allievi. Arrivato ormai alla pensione non ha ancora deciso cosa farà da grande. A macinare in compagnia degli amici ma anche passeggiare da solo e soprattutto leggere in bagno. Questo libro è Casimiro e la cacca della mucca di Sebastiano Zanetello per Ape Junior.